Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese oddio, più o meno oggi vorrei parlare di una questione, diciamo che avrei voluto parlarne molto tempo fa però ho deciso finalmente di portarlo su questo canale visto che comunque c'è stato anche un episodio che è successo in questi giorni con un video delle Blackpink che diciamo ha sollevato un sacco di controversie perché molti hanno sostenuto che non hanno dimostrato particolare rispetto nei confronti di una religione hindù mi è tornato in mente un altro episodio di una youtuber italiana, la Sabri che anche lei diciamo non si è comportata in modo molto rispettoso nei confronti della cultura invece giapponese allora in questo video vorrei analizzare entrambe le questioni che cosa è successo e come hanno reagito entrambe le parti e poi voglio sapere la vostra opinione in ogni caso prima di iniziare lasciate un mi piace allora iniziamo comunque dalle Blackpink sapete che hanno fatto uscire di recente una nuova canzone chiamata How You Like That è uscito il music video, bellissimo, tutto fantastico tuttavia la comunità hindu non era entusiasta del fatto che in una parte del video, esattamente a un minuto e venti avessero messo una statua di una divinità molto importante dell'induismo che era la divinità di Ganesh c'erano più motivi per il quale comunque l'intrusione di questa statua era stata utilizzata in modo problematico il fatto che era stata utilizzata comunque nel music video per dei motivi puramente estetici infatti la vedete che è lì per terra vicino a una lampada di Aladino che non è il massimo poi il fatto che comunque Lisa stesse indossando delle scarpe e il fatto che la statua di Ganesh fosse messa in una posizione inferiore rispetto alle altre persone presenti nella sala in questo caso Lisa e queste cose non le sto dicendo io ma vi posso leggere alcuni tweet di alcune persone che si sono indignate di questo comportamento prima di prendere comunque conclusioni vorrei dire una cosa che se voi non fate parte di una determinata cultura o religione non si può dire se si stanno comportando in modo eccessivo o meno cioè non facendone parte possiamo solamente ascoltare quello che hanno da dire e se si sono sentiti offesi bisogna solamente prenderne atto questo secondo me vale per l'induismo ma in realtà vale per tutte le religioni comunque leggiamo qualche tweet YG che sarebbe l'agenzia comunque di questo gruppo dovrebbe fare qualcosa riguardo dell'appropriazione culturale dove la statua di Ganesh dovrebbe essere posizionata in una posizione elevata rispetto a Lisa e Lisa non dovrebbe indossare le scarpe vicino alla statua oppure dovrebbero completamente togliere la statua in modo che la reputazione delle Blackpink non venga danneggiata per non aver rispettato una divinità così importante come quella di Ganesh ve ne leggo un altro YNG ha usato la figura di una divinità hindu l'uso irrispettoso per motivi estetici è disgustoso la nostra cultura viene sempre usata per motivi estetici una cosa interessante comunque eppure io sono completamente d'accordo è il fatto che molte persone si siano schierati contro la YNG anche perché non volevano che comunque delle scelte comunque riguardo all'estetica di un determinato video riflettesse in modo negativo sul gruppo perché comunque molto probabilmente un gruppo come le Blackpink avranno comunque un team che gli sta dietro formato da chissà quante persone e probabilmente non avevano potere di dire un qualcosa in merito a quella statua perché magari ci sarà stato un addetto alla scenografia del music video e in caso sarebbe stato lui a dire qualcosa ma a me sorprende come in tutto questo team non ci sia stato nessuno che abbia detto magari mettere una statua di una divinità di un'altra religione in un video così promozionale forse non è il caso io dico comunque ci sta l'errore ma se hanno di questi dubbi assumete un antropologo, un sociologo, un religioso qualcuno che possa comunque indagare in modo da non fare delle figuracce perché comunque diciamo che non è che la YNG ci ha fatto una bella figura a mettere questa statua tant'è che comunque ha ascoltato le critiche e ha scelto giustamente di rimuovere questo pezzo del video non so, avrà contattato direttamente YouTube in modo che non perdessero le visite e nel video adesso compare la stessa scena ma è stata completamente rimossa la storia di questa divinità in ogni caso come vi dicevo prima io non faccio parte di questa religione e non so quanto possa essere rispettoso il mettere una statua del genere in questo modo in un video quindi su questo fatto non mi pronuncio però tutto ciò mi riporta alla seconda cosa di cui volevo parlarvi in questo video su cui sono molto preparato vivendo in Giappone e sapendo comunque che cos'è lo Shintoismo e che cosa rappresenta questa religione magari non per tutti i giapponesi ma per moltissimi giapponesi allora la Sabri ha fatto questo video su TikTok e tra l'altro me l'ha passato un altro YouTuber presunto amico suo dicendomi ma quanto si è comportata in modo rispettoso la Sabri sapete quando si trovi in un santuario l'ultima cosa che ti verrebbe in mente da fare secondo me sarebbe fare dei video per TikTok sculettare, alzarsi la maglietta fare le capriole io non le avrei mai fatte in un templio a prescindere se mi trovo in Giappone o se mi trovassi in qualsiasi altra parte del mondo cioè dei luoghi religiosi comunque sono dei luoghi che significano qualcosa per alcune persone e certi comportamenti non si fanno anche i bambini di 5 anni dovrebbero saperlo io mi ricordo che quando avevo visto questo video ne hanno rimasto un po' disgustato anche se avevo compreso che magari si potesse trattare di un errore che non è che la Sabri volesse necessariamente andare contro una religione ma scusa ma secondo te la Sabri va a fare queste cose anche nelle chiese? io comunque la Sabri l'ho anche incontrata l'ho conosciuta mi seguiva su Instagram eccetera eccetera quindi invece di diciamo dirglielo pubblicamente l'ho contattata in privato circa un anno fa dicendole che cosa ha fatto con questo video e perché questo video TikTok secondo me non dovrebbe rimanere online l'ho scontattato scrivendogli questo messaggio ve lo leggo ciao Sabri tutto bene? ti riferisco questo messaggio in amicizia mi hanno mandato il tuo video su TikTok in un santuario in mezzo a dei tori i portali rossi forse non sai ed è perfettamente comprensibile che tu non lo sappia che ti trovi in una zona sacra per gli shintoisti e quei tori rappresentano i portali per i kami ovvero le divinità shintoiste sono sicuro che non l'hai fatto apposta però molti giapponesi o anche fan stranieri del Giappone potrebbero storcere il naso o addirittura offendersi alla vista di quel video spero che tu non ti offenda perché non è la mia intenzione fai tante buone azioni sarebbe un peccato che usassero quel video per denigrarti in qualche modo ecco tutto qua allora a distanza di un anno vi posso dire che la Sabri Gamer non solo ha visualizzato il messaggio non solo non ha tolto il video su TikTok ma mi addirittura lo ha smesso di seguire dopo che ho mandato questo messaggio che come potete vedere questo messaggio era stato mandato in amicizia per dire amica mia hai fatto una cazzata rimedia cioè ci sta che non lo potesse sapere io sono sicuro che ha postato quel video pensavo in buona fede perché ho detto vabbè hai fatto questo video hai fatto un po' l'infantile un po' stupido perché comunque in un templio non ti metti a fare queste cose però il fatto che l'hai lasciato su permettete non a me sembra un comportamento piuttosto da vabbè non lo dico ditemi voi secondo voi che comportamento è che messaggio da una persona che sa che sta comunque andando contro una certa religione e è cosciente di ciò e decide di sua iniziativa di lasciare il video online cioè a me non sembra un gran un gran comportamento anche perché poi si trattava di un video di TikTok nemmeno un video capito di YouTube che devi star lì lavorare eccetera quindi non so perché non l'abbia rimosso io tra l'altro ho anche contattato una mia amica che si chiama Reina la sua famiglia ha un santuario a Shizuoka e le ho chiesto che cosa pensasse di questo video e mi ha detto che è estremamente irrispettoso ci sono anche dei giapponesi che non rispettano le regole comunque in questi luoghi tra l'altro usano la burà il grasso delle mani per fare delle scritte ogni tanto spesso lo fanno gli straniere spesso lo fanno anche gli italiani però capite comportarsi in quel modo non è sicuramente un modo rispettoso neanche da parte dei giapponesi ma quando siete degli stranieri in Giappone voi rappresentate l'intera categoria quindi è brutto che comunque per un comportamento che ha avuto una determinata youtuber tutti gli italiani passiamo per quelli che non rispettano le altre culture senza contare che un personaggio come lei è molto influente anche per le ragazzine quindi è brutto che magari ci sono delle ragazzine che poi finiscono per emularla quando vanno in Giappone magari finiscono anche nei casini cioè non è molto carino come cosa tra l'altro mi fa ridere perché sempre la sabri abbiamo fatto un video comunque riguardo la gravità del comportamento che hanno avuto mette bise in Giappone ha inviato un messaggio congratulandosi dicendole che ha fatto bene a fare il video da che pulpito se non è ipocrisia questa ditemi qual è in ogni caso ragazzi io non me la sto prendendo con questa sabri cioè che mi abbia eliminato su instagram ne può fregar di meno cioè anche quando l'ho conosciuta non mi ha fatto una brutta impressione cioè mi è sembrata comunque una bambina nel corpo di una 32enne quindi non ci sono proprio le basi per potermi arrabbiare ti dico mi spiacerebbe però se questo video venisse replicato dai suoi follower quindi io ho deciso di fare questo video non per fare un dissing alla sabri ma per diciamo sensibilizzare le persone su quanto una religione o un determinato posto possa significare nei giapponesi tra l'altro proprio in questo periodo io come sapete sto studiando per un esame della magistrale per le religioni e proprio si parla in un libro di Shimazono anche c'è proprio un intero capitolo dedicato ai power spot che sono questi posti pieni di spiritualità in Giappone infatti c'è una corrente che si chiama la corrente della new spirituality che in una delle sue sfaccettature si focalizza proprio nella ricerca appunto di power spot e questo concetto di power spot si collega comunque alla ricerca di cercare di trovare un legame con la natura e in questa visione la terra è vista come un unico organismo e nella terra c'è un flusso di energia che gira e si concentra in alcuni punti specifici che sono detti power spot c'è stato tra l'altro una manifestazione nel 1987 in cui c'è stato sia allineato il sole la luna e la terra e durante questa manifestazione diciamo tanti fedeli di tutto il mondo che credono sia nella nuova spirituality o anche in questa altra corrente che però si è diciamo sviluppata più nell'occidente che si chiama new age new age e new spirituality sono due concetti un po' diversi che non ho tempo di analizzare qui comunque si sono ritrovati tutti a meditare in questi power spot in giro per il mondo c'è anche questo libro che si chiama haken power spot dove afferma che il giappone è pieno di questi spot in luoghi naturali o in santuari shintoisti in questa visione l'urbanizzazione è vista come la causa dei mali e si può guarire attraverso la visita a questi power spot il forte legame comunque tra lo shintoismo e i power spot è stato evidenziato da Ehara in una serie di pubblicazioni che sono state fatte dal 2005 e il 2007 in cui lui si recava in vari power spot e presentava le visite a questi luoghi e a vari santuari che dire questo è quanto io spero di avervi dato una visione completa di che cosa significa comunque power spot io ragazzi posso capire benissimo come magari magari sei all'aperto non ti rendi conto che sei all'interno di un santuario però ragazzi se voi vedete su una mappa templo e santuario considerate che nel momento in cui iniziate a vedere degli elementi religiosi vi trovate in un posto sacro in Giappone funziona così è diverso dall'Italia bene e secondo me è dovere di chi va in un certo luogo cercare di informarsi pure io sbaglio cioè ragazzi capita di sbagliare però capite se sbagliate andate in un posto e vi comportate in modo diciamo irrispettoso e ve lo fanno notare cercate di rimediare se un tuo amico ti dice guarda hai fatto una cazzata toglila toglila se ti rendi conto che è irrispettosa o almeno io farei così poi se lei si è comportata in un altro modo diciamo che siamo delle persone completamente diverse mi è piaciuto il comportamento che hanno avuto l'agenzia delle delle blackpink hanno fatto bene a togliere il video e secondo me fa male la sabbia a tenerlo voi cosa ne pensate fatemelo sapere a togliere il video a togliere il video